Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio fare una quick update sulla situazione Parasy Shield perché sorprendentemente questo paese diciamo che sta peggiorando quella che già era una situazione molto deplorevole. Allora in particolare cosa sta succedendo questi giorni? Questi giorni è stato approvato in senato dei cambiamenti alla legge originale di Parasy Shield che avevo discusso in un video precedente fatto un po' di mesi fa. Bene in tutto questo periodo le cose non sono state imparate, nessuno vuole ascoltare chi di queste cose ne conosce e quindi si sta continuando in questa strada che dal mio punto di vista non ha minimamente senso da qualsiasi punto di vista. Ha soltanto senso da un punto di vista di interessi personali e commerciali di alcune persone con ovviamente tanto potere ma giusto questo perché da tutti gli altri punti di vista sia quello democratico sia quello tecnico eccetera non ha nessun senso. Nello specifico quali sono questi cambiamenti? Ci sono due emendamenti che vogliono essere fatti alla legge che legittimizza la piattaforma Parasy Shield contro la pirateria delle partite di calcio e dei contenuti in streaming pirata e in particolare questi due emendamenti sono inseriti dentro questo decreto omnibus del governo che ovviamente io non so tutto quanto il contenuto di omnibus ma se la qualità è simile a questa di questi due emendamenti diciamo che andiamo molto male. In particolare che cosa vuole fare il primo emendamento? Questo è un articolo che ho preso al volo di Open che descrive un po' le cose. Ora quali sono questi due emendamenti? Il primo fondamentalmente è questo ed è fondamentalmente che l'imposizione che prima veniva richiesta agli internet service provider di bloccare l'IP che erano ritenuti origine di pirateria per esempio delle partite streaming online senza nessun tipo di prova perché poi la piattaforma in realtà è stato leakato il codice e non c'erano prove forensi significative per imporre il blocco. No, semplicemente chi è il possessore del diritto fa un ticket e l'ISPO lo deve bloccare altrimenti può subire delle pene che poi vedremo sono anche state peggiorate. Bene, adesso questa richiesta è passata non solo per l'ISPO ma per tutti i fornitori di servizi di VPN e di DNS ovunque residenti, ovunque localizzati. Quindi non importa qualsiasi servizio, ovviamente questi stanno dicendo tutti quanti i servizi del mondo devono rispettare la nostra legge italiana io non me ne intendo di leggi ma mi sembra abbastanza ridicola come richiesta e ovviamente il tempo, il limite è sempre mezz'ora perché ovviamente noi interagiamo con servizi internazionali con servizi che magari non sanno neanche delle partite diciamo di streaming di calcio italiano e cose del genere sempre mezz'ora ovviamente di tempo perché gliel'ha detto l'Agicom dopo tutto che è una appunto questa per garantire le comunicazioni cioè noi per garantire le comunicazioni stiamo creando un abominio fondamentalmente non verrà però solo sanzionato chi gestisce il traffico illecito ma anche chi non denuncia tempestivamente pur essendo a conoscenza che siano in corso siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti a questi sarà contestata l'omissione di segnalazione e comunicazione per la quale è prevista una pena fino a un anno di carcere quindi fondamentalmente uno a questo punto può dire ok tu devi andare un anno in carcere perché? perché non hai segnalato un sito che andava a distribuire contenuti pirata ora qui però c'è un problema dal punto di vista proprio di diciamo natura del diritto se vogliamo ed è come faccio io a dimostrare che tu non sapevi effettivamente che quella cosa stava avvenendo o che la sapevi e che non hai agito cioè qui veramente la situazione sta diventando molto critica perché la si sta rendendo più potente questa legge e questa piattaforma basandosi sul nulla perché a questo punto diventa veramente una cosa intenzionale cioè della serie come si fa a definire essere a conoscenza cioè che tipo di strumenti io posso avere per sapere ok questo indirizzo IP effettivamente sta streamando cose illegali oppure no se io come ISPA vedo il traffico non sempre questa cosa è ovvia da notare quindi ovviamente come al solito ritorniamo al solito punto dell'Italia è che chi fa queste leggi non lo fa da un punto di vista genuino, tecnico per cercare di migliorare il paese ma lo fa solamente per i propri interessi che sono sempre ovviamente a scopo limitato e per una quantità molto limitata di persone e che poi tutti pagano le conseguenze la cosa divertente è che adesso a pagarne le conseguenze saranno pure i fornitori di VPN che sicuramente loro si dovranno adattare a questa legge ma io penso proprio di no in realtà penso proprio che piuttosto che adattarsi alla legge a questo punto non danno il servizio in Italia e stanno bene così perché la richiesta è troppo rispetto poi a cosa cioè loro non guadagnano nulla di più rispetto a prima e però devono fare tutte queste cose per proteggere il diritto di chi ha queste partite di calcio i diritti di queste cose e via dicendo d'altra parte però Agicom dovrà rendere nuovamente accessibili gli indirizzi IP bloccati da almeno 6 mesi e che non risultano più utilizzati per finalità illecite quindi loro giustamente hanno detto ma ok se un indirizzo viene utilizzato per un minisecondo per un secondo e poi viene riportato e viene bloccato entro 30 minuti poi deve stare fermo per 6 mesi prima di sbloccarlo anche se in quei 6 mesi non fa mai attività illecite cioè questa cosa è veramente lenta si sta pensando che internet possa funzionare esattamente come funziona l'Italia ovvero con delle tempistiche glaciali e lentissime quando in realtà non è vero perché in 6 mesi ci sono startup che nascono e muoiono e possono avere il loro successo in quello span di 6 mesi quindi non ha veramente senso questo tipo di pensiero estremamente lento e retrogrado nel contesto di internet in cui un indirizzo IP nello span di poche ore fondamentalmente può cambiare tantissimo per non parlare di 6 mesi per un indirizzo IP 6 mesi sono ere geologiche fondamentalmente dopodiché la responsabilità dei prestatori quindi il primo inventamento fondamentalmente diciamo aumenta la superficie di attacco di Agicom perché adesso dicono ok adesso noi possiamo attaccare chi ha la VPN chi offre servizi di DNS e chi fa l'internet service provider perfetto la responsabilità dei prestatori il secondo emendamento il 6036 agisce modificando proprio la legge antiperateria in particolare si concentra sul prestatore di servizi di accesso alla rete i soggetti gestori dei modi di ricerca e via dicendo un lungo elenco di tecnicismi per individuare quelle figure sul web che permettono all'utente di accedere a un servizio fungendo da porte d'ingresso della rete quindi ovviamente loro attaccano queste persone perché queste persone non danno un servizio utile alla società sono ovviamente le sorgenti di pirateria perché la pirateria prima non esisteva prima di internet ed è soltanto fondamentalmente responsabilità di questi prestatori di servizio alla rete è veramente un tipo di mentalità estremamente limitata comunque pure queste figure del mondo del web quando ne sono a conoscenza dovranno denunciare immediatamente all'autorità competente tali circostanze fornendo tutte le informazioni disponibili e nel caso di omissione di segnalazione quindi siamo attenti qui nel caso in cui tu non segnali abbastanza velocemente anche i prestatori di servizio sono punibili con il carcere e questo punto in particolare spaventa spaventa perché considerare che c'è gente chi sta in parlamento che dovrebbe andare fondamentalmente a caratterizzare il futuro del nostro paese che ha la responsabilità e il dovere di scegliere quali sono le regolamentazioni del futuro che andranno poi ovviamente a strutturare il futuro del paese scelgono di creare queste cose orribili scelgono di mettere di dare un sacco di problemi a chi eroga i servizi del futuro che sono la connettività di internet la connettività per esempio al DNS a me le VPN non fanno impazzire ma comunque non c'entrano niente in questo caso la VPN è un servizio e quindi non ha senso concentrarsi in questo modo sulle VPN per una battaglia del genere chiaramente questo qui porta forte interesse soltanto a poche persone che ovviamente hanno tantissimo potere tantissimi soldi e quindi possono fare una lobby molto forte rispetto a queste leggi io scommetto che i parlamentari italiani non hanno nessun tipo di forza e nessun tipo di caratteristiche o comunque quelli che diciamo hanno approvato queste leggi e che stanno facendo passare queste leggi non hanno nessun tipo di spirito critico rispetto a cosa questo rappresenti per il mondo tecnico e quindi per il futuro fondamentalmente e quindi questo è quanto cioè nel senso adesso uno che diciamo lavora per cercare di dare servizi all'Italia servizi di connettività adesso è pure imputabile per il carcere se non è abbastanza veloce tra i mille problemi che già sicuramente deve affrontare anche questo della pirateria perché ovviamente non è la colpa di chi effettua l'atto illegale ma anche di chi li dà la connettività che non ha senso non ha senso veramente perché è come dire che ok allora a me il comune è dalla strada io faccio un incidente nella strada e quindi è colpa di chi mi ha dato la strada se soprattutto per non parlare del fatto che nelle strade per esempio di Roma ci sono tante buche ma non c'entra niente cioè per dire non è che chi ti dà la connettività automaticamente responsabile è un pensiero che in altre diciamo situazioni non avrebbe minimamente senso fare perché lo si fa in internet perché rispetto ad internet la gente è ignorante e non gli frega un cazzo fondamentalmente cioè questa è la ragione e verrà anche per coloro che non hanno una sede fisica in Europa se il servizio è raggiungibile dal territorio italiano il prestatore deve disegnare una persona fisica o giuridica che la rappresenti legalmente quindi fondamentalmente veramente assurdo e tra l'altro qui non c'è scritto ma avevo anche letto di un'altra modifica ancora che fondamentalmente va ad eliminare il numero limite di indirizzi P che potevano essere bloccati cioè che prima erano un tot numero non mi ricordo un X numero e poi dopo quello non potevano superare che tra l'altro infatti a Gcom aveva quasi raggiunto il limite adesso non ci dovrebbe essere più questo limite se ho capito bene diciamo i cambiamenti e quindi fondamentalmente stiamo dando ad A Gcom un potere terrificante che secondo me sia i parlamentari stessi probabilmente non hanno veramente capito cosa questo comporta tecnicamente cioè nella pratica molto spesso nelle leggi si fanno tanti scenari ipotetici della serie eh ma se poi approviamo questa cosa quali possono essere gli effetti sulle realtà dobbiamo stare cauti dobbiamo stare diciamo attenti e qui e lì e poi si approvano senza nessun tipo di pensiero fondamentalmente leggi di questo tipo o comunque cambiamenti di questo tipo si approvano tutte queste cose e quindi questo è l'ennesimo punto in cui l'Italia fa mille passi indietro io quando ho fatto il primo video su Parasy Shield era appena stata approvata la piattaforma stava appena funzionando adesso fondamentalmente non si cioè non si è capito che è un errore non si è capito che un errore è più passa il tempo più i danni aumentano e più ci rendiamo ridicoli di fronte all'intero mondo e niente quindi questo è un video molto molto veloce molto triste però a quanto pare sta peggiorando sta peggiorando lo faccio giusto per ricordare appunto a chi mi segue che questa battaglia la stiamo perdendo fondamentalmente perché in Parlamento non c'è un minimo di rappresentanza e non lo so cioè non c'è un modo di parlare di queste cose perché comunque l'ho sentita veramente poco discussa ed è terribile è veramente terribile dare più potere ad un'autorità che non lo sa minimamente utilizzare e che non ha il criterio proprio da tutti i punti di vista per utilizzarlo gli diamo più potere e questo è una cosa che la democrazia dovrebbe stare molto attenta alla centralizzazione del potere adesso Agicom può chiedere a Internet Service Provider servizi di VPN servizi di DNS di bloccare un IP il prestatore del servizio ovviamente avrà paura di essere denunciato e di finire potenzialmente in un anno di carcere anche se questa cosa non verrà mai effettuata effettivamente il problema è proprio la possibilità questo creerà paura e quindi questo che cosa renderà a livello pratico renderà tutti questi prestatori di servizi o saranno estremamente servili ad Agicom perché sono costretti ovviamente perché chi è che vuole andare in carcere per diciamo fondamentalmente una cosa che probabilmente neanche affatto consapevolmente ovvero non avvisare in tempo oppure smetteranno di erogare il servizio in Italia quindi per quelli che sono all'estero sarà molto più semplice smettere di erogare il servizio perché è letteralmente impossibile diciamo rispettare questi requisiti questa è una tipica legge che nessuno può rispettare al 100% specialmente perché si basa sulla conoscenza che un Internet Service Provider ha che è un qualcosa di estremamente complesso e non importa il fatto che i dati passano per l'ISP perché se ti passano un sacco di dati di un sacco di utenti tu non hai un controllo a grana fine su cosa sta passando e per quanto riguarda ISP grossi o comunque ISP di una certa dimensione anche medio direi questo diventa estremamente difficile cioè analizzare i dati quindi si sta richiedendo un sacco di cose all'Internet Service Provider ai DNS ai VPN Provider e Agicom invece si comporta come gli pare cioè non ha nessun tipo di diciamo trasparenza di operato e via dicendo e avevo pure letto che se tu ti vuoi far sbloccare l'IP sei tu che devi dimostrare di essere innocente non è che devono dimostrare che tu sei colpevole no sei tu che devi dimostrare di essere innocente cioè tutta questa questione intorno ad Agicom è veramente glaciale rispetto al fatto che proprio non racchiude nessun tipo di principio che la democrazia dovrebbe avere ed è una cosa triste quindi chiudo il video al prossimo speriamo che ma non ho più speranza oramai perché questo paese è come se non volesse veramente capire la gente è interessata ad altro la gente non pensa a questi problemi e continuiamo così e vediamo il risultato personalmente più vado avanti e più penso diciamo ad andare via da questo paese in tutta onestà anche per queste ragioni perché non mi sembra giusto vivere e subire le conseguenze di scelte di persone che sono ignoranti pensano solo ai loro interessi e fondamentalmente se ne infischiano della realtà se io passo il mio tempo a studiare ad imparare a crescere perché devo essere limitato da queste persone e questo poi è il motivo per cui un sacco di italiani se ne vanno all'estero ma niente di nuovo da quell'aspetto e con questo è quanto al prossimo video